Il Presidente del Consiglio ha apertamente offerto l'agricoltura. Dica solo che non date a Ciampolillo l'agricoltura, poi sul resto siamo tranquilli. E a lei risulta che qualcuno di quelli che hanno votato andrà a ricoprire uno di questi luoghi? No, vabbè, insomma, speriamo proprio di no. Io non lo so, però... Ma allora se non lo sa, perché fa questa illazione? Io non lo so, e questo lo vediamo. Non so, per esempio, cosa si sono detti i conti in Maria Rosario. Ma non lo so neanch'io, sicuramente non gli ha detto che andava a fare il Ministro dell'Agricoltura. Ma non so come sa lei, respirando l'aria dei palazzi, l'altro giorno il Senato era un suc a cielo aperto, che in questo momento di aspiranti Ministri dell'Agricoltura ce ne sono diversi. Così come... Vabbè, però non è stato scelto, Alessandro, non si può fare il processo all'infezione. Secondo lei uno di quelli che ha votato... No, mi risponda a lei. Ma secondo lei uno di quelli che ha votato farà il Ministro dell'Agricoltura? No, lo chiedo a lei. No, no, io lo scudo. No, questa è una notizia. Lei esclude che sarà dato un posto di governo, l'agricoltura, la famiglia o il sottosegretariato agli esteri, a uno dei responsabili che stanno accovendo? Lei lo esclude? Silvia Sciorilli-Borelli, che crisi ha?